La polizia di Lucca e la polizia municipale di Alto Pascio hanno smantellato una banda di spacciatori nel paese del Tau. Tutti i membri della banda erano di origine marocchina e sono stati arrestati con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. I arrestati sono sei giovani di età compresa tra i 18 e i 31 anni, tutti irregolari sul territorio nazionale e già conosciuti dalle forze dell'ordine. L'operazione è stata condotta grazie alle complesse indagini avviate dalla squadra mobile della questura di Lucca alla fine del 2022, con il supporto costante della polizia municipale di Alto Pascio, dopo le segnalazioni di alcuni cittadini di movimenti strani nella zona del parco Aldomoro. Le indagini hanno scoperto che gli spacciatori provenivano a piedi da galleno per poi rifornire gli acquirenti provenienti anche da Pescia, Pisa, Lucca e Pistoia, con lo stupefacente nascosto nel cellofan. Durante l'arresto, uno dei membri della banda ha spintonato gli agenti ma è stato comunque ammanettato e verrà denunciato anche per resistenza pubblico ufficiale. Gli arrestati sono stati condotti alle carceri di Pisa e Lucca a disposizione delle rispettive autorità giudiziarie.